L'AirMaster è una sneaker composta da molti materiali e molti pezzi, pezzi che vengono tagliati a mano per poi essere assemblati, cuciti e preparati sia a mano che a macchina per formare la tomaia. A questo punto viene trasferita in manovia. In manovia ci sarà la preparazione per la successiva fase di suolatura e rifinitura. La scarpa finita viene pulita dai residui di produzione, confezionata e spedita. Grazie